d'ambrosio dosso pavaro d'ambrosio chi scegli d'ambrosio d'ambrosio fiorenzo giulio scusami non stare a guardare il capello d'ambrosio tu io dico pavard allora io dico d'ambrosio così siamo due a zero e me la vado e ce l'andiamo a giocare dai a cerbi o pablo mari se giocherà pablo mari parti tu giulio a cerbi a cerbi mi piace di più sì sì confermo anch'io a cerbi e allora accendiamo a cerbi mi sembra mi sembra anche giusto bastonio caldirola fiorenzo dico caldirola perché ha già punito l'inter a san siro e perché perché così mi faccia il bis a visco io bastoni visto che non l'hanno visto quelli del var giustamente bella bella mi è piaciuta mi è piaciuta giulio impossibile non scegliere caldirola impossibile non scegliere caldirola ragazzi monza 3 inter1 in questo momento è dunfris o ciurria mettiamo a destra giulio giochiamo un po ribasso quest'anno tra uno e l'altro non è però dunfris si sta facendo preferire facendo preferire fiorenzo ciurria sembra del cuore però dunfris siamo tra due naturalmente scriveteci anche i vostri commenti qui sotto perché li mandiamo in onda barella o gagliardini parti tu fiorenzo allora la ragione direbbe barella però quello che sta facendo gagliardini in tutti i settori dove lo mette io romanticamente dico gagliardini che bella mi piacciono di più mi piacciono le vostre motivazioni devo dire che avete molta fantasie non a caso siete due scrittori giulio io dico barella così gagliardini s'arrabbia se si vede domenica cioè sabato con partito e io invece dico gagliardini a prescindere così andiamo sul 4 a 2 cialanoglu o tessina difficile questa è giulio capitano un attimo sottotono purtroppo questa la perde devo dire la perde sì sono sono d'accordo con te confermo a malincuore ma confermo anche perché non ho grandissime simpatie per cialanoglu dal punto di vista che andavano così umano però in questo momento pessina un po in sofferenza 4 a 3 attenzione monza 4 in 3 nell'undici contro 11 di moschiana non so se dice così memoria maurizio mosca faceva sempre questo gioco che mi faceva impazzire quando quando ero ragazzo colpani o mkhitaryan anche se il ruolo poi è un po diverso però nell'undici contro 11 con un formazione che gioca con due formazioni che non giocano con lo stesso modulo dobbiamo mettere a confronto magari giocatori di diverso ruolo fiorenzo è questa è questa è questa è dico colpani sperando che funzioni da stimolo per quell'ultimo saltino di qualità che gli manca per tornare quello dei primi mesi giulio mkhitaryan o colpani io cerco di essere indipendente dico mkhitaryan perché uno così nel monza mi piacerebbe molto vedere eh sì eh sì che qualcuno ha paragonato come somiglianza a pippo franco e lui ha detto che effettivamente effettivamente è così simpatico mi sono andato anche a rivedere i suoi film ha detto l'armé dell'inter e io appoggio dosso e metto il mio voto lo metto a colpani che porta il monza sul 5 a 3 a sinistra ci sarà un dubbio nell'inter carlos augusto l'ex il grande s o di marco mentre nel monza dovrebbe entrare kiri a copulos eh qua mi sembrano una lotta un po impari fiorenzo e allora se la lotta è tra kiri a copulos e di marco se la gioca scelgo carlos augusto c'è bellissimo no diciamo diciamo in questo momento che chi gioca sulla parte sinistra dell'inter secondo me è il più forte in assoluto in italia sia esso di marco sia esso carlos augusto secondo me il più forte in italia quindi vince l'inter in questo caso eh sì vince l'inter giulio eh sì condivido va bene siamo uno due tre quattro cinque siamo cinque a quattro eh per il monza la coppia offensiva e qui sono un po le note dolenti dobbiamo mettere io direi colombo e motta carvalho contro turan e l'autoro martinez io speravo che insomma l'autoro potesse rientrare un po più tardi invece già è già rientrato io direi di mettere l'autoro mattinez contro motta carvalho e turan più prima punta eh contro contro colombo l'autaro contro motta carvalho giulio il moto ha visto nelle ultime due partite mi piace però l'autoro l'autoro quindi la accendiamo sull'inter fiorenzo assolutamente sì uno due tre quattro cinque uno due tre quattro cinque attenzione cinque a cinque adesso arriviamo alla parte finale quindi colombo contro turan vabbè andiamo sul sei a cinque non mi chiedono anche la motivazione quindi ha portato male perché anche l'altra volta monta la città da serie a con i grandi ex milan filippo galli la finita sei a cinque per la squadra milanese e anche stavolta è finita così speriamo che porti un po' meglio dell'altra volta però vi chiedo una cosa ragazzi Simone Inzaghi o Raffaele Palladino Fiorenzo no tutta la vita Raffaele Palladino tutta la vita quindi insomma pareggiamo quasi eh forse io l'ho già spiegato in un'altra tua trasmissione no no diciamo perdiamolo non solo per ehm diciamo le innovazioni le idee e i contributi tecnici che Palladino ha portato nel Monza che sono tantissima roba ma anche per il modo con cui Palladino si approccia chiamiamolo così alla comunicazione è vero eh a me piace sentire Palladino anche quando perde eh eh quando Inzaghi perde eh ah facciamo perde quindi Palladino sempre tuttavia un po' come tutti i grandi allenatori insomma è vero o gli allenatori delle grandi purtroppo è sempre così addirittura ci sono delle società che eh magari perdono pareggiano e poi non mandano i propri tesserati come è accaduto ieri eh a Roma insomma è un po' tutto così Giulio la pensi la stessa maniera? Sì la penso la stessa maniera eh con quello che ha fatto qui in un anno Palladino eh eh beh Inzaghi ha vinto già qualcosa ha fatto una finale di Champions l'anno scorso però Palladino è qualcosa di di innato eh penso a quello che diventerà Palladino secondo me in divenire farà molto meglio Inzaghi e anche di qualcun altro quindi spiego Palladino. C'è da essere preoccupati poi vado in chiusura a Fiorenzo sulle polemiche arbitrali che hanno accompagnato l'Inter in questi in questi giorni insomma l'arbitraggio dell'arbitraggio di Inter Verona si sta parlando ancora adesso 48 ore eh di distanza e se magari hai idea di quello che potrebbe essere il miglior arbitro per questa partita di un'idea ce l'ho Fiorenzo eh ma allora il tema delle polemiche arbitrali meriterebbe una una trasmissione di approfondimento e di viscerare tutti i problemi che ci sono davanti e dietro eh siccome però purtroppo siamo in Italia eh dico che eh sicuramente verrà mandato un arbitro eh in grado di eh ridurre o di provare a ridurre perché poi gli episodi sono talmente eh istantanei e veloci da definire che verrà mandato un arbitro di grande personalità e un arbitro che farà il possibile per eh contenere al minimo sia gli errori che le politiche. Ti faccio un nome sozza della sezione di Seregno ma di fatto di Milano potrebbe essere il miglior profilo per una partita che comunque sarà delicatissima dopo tutte le polemiche di San Siro. Ma visto che adesso da da un po' di mi pare da quando Doveri ha arbitrato la Roma. Sì sì è. Ha allenato ha allenato ha allenato già l'Inter lui tra l'altro se non ricordo male. Ha allenato sotto ha allenato l'Inter. Sì. Quindi potrebbe essere sicuramente io dico che è il miglior profilo. Eh diciamo che è tra le tante delusioni di quest'anno è la nota più indietro per quanto riguarda gli arbitri. È vero. È vero. È vero. Giulio? È un momentaccio perché adesso oltre ad arbitri comincia a sbagliare anche il VAR o comunque sono episodi molto dubbi. Alcuni sicuri. Quest'anno anche il VAR sta facendo dei danni quindi è un problema grosso. Non è solo l'arbitro ma è tutta la squadra. Speriamo bene. anche perché l'Inter le ultime due partite ha avuto due regali no? Mi permetto di dire ma ci sarà qualche interista che mi guarda però credo che sia evidente. Io mi auguro che è un regalino magari arrivi anche tra noi sabato. Eh sì. Ci speriamo. Ma noi vogliamo vincere in maniera regolare. Vi dico le parole di Gagliani sulla sfida di sabato sera. Da Monzese spererei che finisca come l'anno scorso ma è difficile. Ricordiamo che l'Inter in casa ha parigiato. Che il Monza l'anno scorso ha parigiato in casa con l'Inter e ha vinto al ritorno a San Siro. Quest'anno l'Inter è fortissima. È una rosa che la rende favorita per il campionato. Queste le parole di Adriano Gagliani. C'è ancora una parte di Monza una città da Serie A. Non dico che sia la più importante ma sicuramente importante perché grazie ad Andros Monza mettere in palio quella maglietta. La maglietta ufficiale del Monza di Andrea Colpani. Quindi pubblicità e non torniamo qui ma torniamo di là con l'ultima parte in diretta. Grazie ad Andros Monza per l'ospitalità. Grazie a Fiorenzo Dosso e a Giulio Artesani. Grazie ragazzi. Spero di trovare di presto. Ci vediamo tra poco. Ciao bimbi. Ciao bimbi. Aspettiamo il parco esposizione di Novegro il 19, 20 e 21 aprile 2024. Da gennaio andando sul sito giocolandia.net potrai acquistare i biglietti direttamente da a casa perché essere i bambini...